Vi presento i Jung Brothers Attenzione Ovviamente non si devono più reggere una volta che uno si è messo sulla testa dell'altro dovranno aprire le braccia, guardate 3, 2, 1, go In 60 secondi silenzio, silenzio, silenzio Adesso devono, silenzio, tornare su al contrario 30 secondi Sono passati 30 secondi Piano, piano, piano Ok Sofìa Sentiamo, siamo impiegati 60 secondi Sofìa, let me know, above Complimenti ragazzi Allora, Sofìa The record to beat was 60 seconds Il record da battere a 60 secondi In your attempt, you got a total of 53.97 secondi A new Guinness World Record title 23.53 secondi Eccoli qua i nostri Jung Brothers